Il coronavirus smonta nuovamente i piani dell'Avellino. Il ritorno in campo dei lupi, previsto inizialmente per il 16 marzo, al momento è stato spostato al 20, sempre che nel frattempo non accada altro. La situazione è sanitaria in continua evoluzione, per cui stabilire al momento una data per la ripresa rischia di essere assolutamente velleitario. I calciatori, dunque, dovranno continuare a seguire le indicazioni di Eziolino Capuano e dello staff da lontano, stabilendo degli allenamenti specifici per questo periodo di inattività forzata, associando al contempo anche un'alimentazione adeguata. Chi non si ferma è la società, che nonostante tutto lunedì pagherà regolarmente gli stipendi come imposto dalla Lega. Il calcio, dunque, ad ogni livello deve adattarsi e pazientare, soprattutto perché la conta dei contagiati, soprattutto in Serie A, continua a salire. Il primo giocatore ad essere risultato positivo al tampone è stato lo juventino Daniele Rugani, mercoledì. Giovedì è stata la volta di Manolo Gabbiadini della Sampdoria, al quale si sono aggiunti ieri altri quattro compagni, oltre al responsabile medico Amedeo Baldari. Sempre ieri è stata data la notizia della positività di Dusan Vlavovic. Con Cutrone e Pezzella il numero di giocatori di Serie A positivi al coronavirus sale a 9. Per non parlare dello scenario internazionale, che gonfia il numero ancora di più. L'attenzione deve restare alta, lo sport passa in secondo piano, la salute ora è e deve essere la protagonista assoluta della scena.